Perché i Vigili del Fuoco ce la indicano la piazza San Benedetto come la zona rossa della zona rossa e potete ben capire il perché, non solo la torre del municipio che come vi abbiamo mostrato prima è stata imbragata tra virgolette dai soccorritori, ma guardate bene, la zona è circondata da edifici pericolanti a partire dalla basilica di San Benedetto. Ecco, la basilica che forse avete visto nelle immagini dei Vigili ecco, così si presenta, con la pioggia fa ancora più impressione perché sembra ancora più abbandonata, distrutta, colpita ferita nel profondo da questo terrificante sisma. Anche i leoni in pietra, anche essi hanno subito danni chiaramente dovuti più ai crolli, alle pietre che le hanno schiacciate, che non alla scossa.